Ma naturalmente ognuno è libero di manifestare perplessità, dubbi, critiche, non è in discussione questo. Quello che è in discussione sono alcune affermazioni che non corrispondono esattamente alla realtà. E naturalmente quando si fa un'affermazione sganciata dalla realtà si fa una falsa informazione. Noi da questo punto di vista vogliamo tutelare la società e vogliamo tutelare anche noi stessi. Non ci si può dire che abbiamo fatto un bilancio falso o che abbiamo truccato le cose. Se ci sono cose di questo tipo ci si rivolga alle autorità che sono in grado di combinare anche delle sanzioni. Se si costruiscono castelli di fantasia, questi castelli di fantasia poi hanno delle conseguenze. Noi parliamo di una società importante che rappresenta un valore aggiunto per il territorio e riteniamo che, ripeto, ci sono critiche, se ci sono rilievi tutti ben accetti.